La morte ci riguarda tutti. Il meglio che possiamo fare è affrontarla con forza e dignità. Chi è? Mi scusé? Non è mio padre. Abbiamo preso quello sbagliato. Gesù! Quando morì il padre di Daniel, vennero tutti a fare le condoglianze. Stiamo andando a un funerale, idiota! La famiglia. Sio Alfie, salve! Dov'eri finito? È tardi! Gli amici. Solo un po' nervoso. Perché vedrai mio padre? Prendi una di queste, ti calmerà. Vedo che ti sei portato il tuo amico. Sono desolato e bella bella. Dozie! Gli ho dato del volume? Non ci hai abituato. E persino uno sconosciuto. Che diavolo è quello, per esempio? Non ne ho idea. Le ha mai parlato di me? Sono Peter. È molto lieto. Dal regista di In e Out, Frank Holtz. Il volume che hai dato a Simon non era in realtà volume. È una specie di intruglio allucinogeno. Perché ho delle mani così enormi? Raconteranno le loro storie. Mio padre era un uomo eccezionale. La parte si è mossa. C'è un uomo vivo là dentro! Oddio! Condivideranno i loro sentimenti. Non puoi cancellare ciò che è stato. Justin, è stata una notte. Ho commesso un errore. Ero completamente ubriaca. Potevi essere un somato. Simon. Simon, stai bene? E sveleranno i loro segreti. Avrei un po' di foto che vorrei mostrarle. Che cosa è questa? Oh, Cristo! Dal 21 settembre si morirà dal ridere con... Io mi butto! Funeral party. Però è stato anche eccitante, no?